La paura domina il mondo, come mai in passato. Gli umani si comportano in modo altamente prevedibile quando hanno paura. E noi ovviamente abbiamo trovato il modo di guadagnarci. Alex fa un mucchio di soldi per tante persone. Ciao. Lo adoro. Abbiamo costruito un algoritmo perfetto per operare sul mercato finanziario. I trader lo chiamano l'indice della paura. È sempre l'ignoto a farci più paura. Cristo! Non è più in sé ormai. Non possiamo fidarci di lui. Sta succedendo qualcosa di molto strano. Mi stanno incastrando. Il mio computer è stato hackerato. Ma adesso vieni via con me. Hai idea di chi potrebbe voler distruggere il dottor Ofno? Qualcuno cerca di rovinarmi la vita. Alex, stai ascoltando o no? Mi sorveglia 24 ore su 24. Alex, chi sei tu? Ci fa guadagnare soldi. Lavoriamo per questo. Sei impazzito! Qui non si tratta di soldi, è molto di più. Non smetterà. Se non lo fermo. Non smetterà. Non smetterà. Non smetterà. Lavoriamo. Lavoriamo.